Ciao a tutti ragazzi sono qui in cucina con mia mamma e mia sorella oggi proverò la cucina nord coreana il nome del piatto lo scrivo nei commenti perché è impronunciabile però è pollo fatto come? diciamo qualcosa, di qualcosa con sesamo sesamo zenzero zenzero, paprika, no un po' di tutto insomma questo è il piatto e assaggiamo perché se ci capiterà di andare a Pyongyang pollo, vabbè chiaramente pollo assaggiamo ci sta tu che dici? vuoi assaggiare? no ovviamente sono l'unico che mangiano il coreano però non è male, non è male cioè lo ripetiamo pollo con sesamo prezzemolo perché c'è una marea di prezzemolo cipolla, peperoni patate patate ma un po' di tutto insomma curry comunque lo zenzero vi lascio il link della ricetta nei commenti non è male io vi saluto vi do appuntamento con il prossimo video cucinerai con un altro piatto di qualche altra cucina strana buono lo so vediamo ciao a tutti 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 ciao a tutti